Eccoci ragazzi, eccoci in compagnia in attesa della partita di domani con lo Spartapraga. Ma io sono rimasto un po' perplesso, so che la cosa è abbastanza facile, però sono rimasto un po' perplesso dal modo in cui è stato accolto, metabolizzato, titolato e presentato il nostro pareggio con la Roma. Ah Milan, tragedia, hai mancato la fuga, hai fallito la fuga. Scusate, con tutto il massimo del rispetto e con tutto il bene e con tutta la stima professionale per chiunque, ma quale fuga? Ma chi ha mai parlato di fuga e chi può fare una fuga? Cioè adesso il Milan è condannato a vincere tutte le partite del campionato, altrimenti si va a vedere che non ha i ricambi, che ci sono certi giocatori che non sono abituati a giocare nelle alte vette della classifica. Scusate, il Milan ha giocato la squadra d'alte vette della classifica contro la Roma. La differenza fra Milan e Roma è stata nelle palle inattive. La Roma sulle palle inattive fa due gol, noi prendiamo un palo, Mirante fa un miracolo e in Romagnoli la sua palla finisce fuori di un soffio. Questa è la differenza. Per il resto, nel mezzo, c'è tanto gioco Milan, Milan sempre in vantaggio, avversario sempre costretto a inseguire. L'avversario era venuto a Milano per vincere. Io capisco e ne sono orgoglioso del fatto che il Milan faccia sempre un po' più notizia di tutti. Ce lo dobbiamo ottenere senza vittimismi e senza i rigori. Però l'avversario era venuto qua a Milano convinto di essere superiore e di vincere. E la cosa non è successa. E il Milan è stato molto più convincente con la Roma che con l'Inter. Poi dice i sostituti. Scusate, il vice Ibra, si chiama in casa nostra Ante Rebic ed è infortunato, ha giocato Ante Rebic in questa stagione santo cielo pochissimo ha giocato pochissimo ha giocato praticamente soltanto le due gare di campionato contro Bologna e Crotone se no è stato fuori o per squalifiche in Europa League o per infortunio dopo la caduta sul gomito a Crotone in campionato. Ma quando si tratta di far fare la prima punta a un giocatore che non è Ibra il migliore nella nostra rosa è Ante Rebic. Non è che il Milan non ha i sostituti. Milan ce li ha i sostituti però bisogna andare a vedere che sono infortunati. sperando che Ante Rebic possa in qualche modo essere coinvolto non certo per giocare dall'inizio con lo Sparte poi si vedrà Udine e queste naturalmente sono le scelte importanti alle quali è atteso proprio in queste ore proprio in questi minuti il nostro allenatore Stefano Pioni. Però ecco non ho condiviso onestamente questo clima funesto molto più mediatico che sostanziale. I tifosi del Milan li ho visti uscire molto bene da questo pareggio con la Roma mi sembra che i tifosi ne abbiano colto il senso ne abbiano recepito il significato di una squadra che ha fatto cioè il Milan non è che era atteso ad una notte da protagonista ed è scappato è scomparso si è dissolto ha giocato bene è andato in vantaggio tre volte ed è stato raggiunto. Tataruzano non ha fatto la migliore delle parite della sua vita certo qualcuno di voi sogna Antonio Donnarum certo ma Stefano Pioli ha completa fiducia in Tataruzano lo considera uno splendido professionista e dopo è il portiere della nazionale romena e se dopo una lunga inattività può esserci stato qualche errore il Milan non si formalizza per questo gli errori fanno parte del gioco purtroppo le positività al covid da ridosso delle parite fanno parte del gioco il Milan guardate che il Milan ha avuto in questo inizio di stagione un coefficiente di difficoltà altissimo su tutti i fronti ma davvero alto col Bologna eravamo senza Leao in tutte le parite di Europa League senza Rebic e nelle due decisive con Böde Glimt e Rioave senza Ibra abbiamo rischiato di non avere Ceranoglu con la Roma Ceranoglu ha giocato con la consueta lucidità con la Roma però non era dal punto di vista dinamico e della scioltezza di corsa il solito Ceranoglu abbiamo avuto ogni tipo di difficoltà abbiamo un girone di Europa League che mi sembra onestamente non per fare il rosicone non è questo il senso lo si capisce facilmente un girone di Champions League con il Milan primo in classifica nel suo campionato il Lilla primo a pari merito col PSG nel suo campionato con lo Spartapraga primo nel suo campionato con il Celtic che lotta con i Rangers e sei punti dietro il Celtic adesso però ha giocato una parita in meno rispetto ai Rangers insomma se la vede con i Rangers quindi anche il sorteggio è stato durissimo cioè il coefficiente di difficoltà del Milan incontrato fino adesso fra infortuni disdette Covid rientri dal Covid sorteggi e quant'altro è altissimo eppure il Milan è in testa alla classifica e il Milan è in corsa per giocarsela evidentemente siamo solo all'inizio in Europa League guardate che il Milan ha iniziato questo campionato nello stesso esatto modo in cui aveva iniziato il post-lockdown il post-lockdown il Milan l'aveva iniziato con quattro vittorie e un pareggio Lecce Roma Lazio Juve le vittorie e pareggio con la spalla il nuovo campionato iniziato con quattro vittorie e un pareggio quindi il Milan ormai ha il suo passo poi pretenda sbattere addosso al Milan la responsabilità di vincere tutte le parite della stagione altrimenti altrimenti ti processo altrimenti non sei all'altezza altrimenti non sai essere protagonista ragazzi io capisco la critica è una fonte inesauribile ed è un esercizio inesauribile di dubbio e il calcio si alimenta di dubbi di incertezza di equilibrio è il fascino del calcio io tutto questo lo capisco e non mi permetto di contestarlo però però non prendere per buona la prestazione del Milan contro la Roma è un errore perché comunicare solo il risultato ed esaltare il Milan solo per il risultato noi dal derby di positivo c'è stato soprattutto il risultato e cavolo c'è stato di positivo il risultato certo che il risultato è positivo però abbiamo giocato molto meglio con la Roma che con l'Inter e la Roma è una di quelle squadre importanti del campionato con cui non perdiamo da mo' perché il Milan nelle ultime sette partite con squadre importanti ci metto la Roma due volte ci metto l'Inter due volte la Juventus la Lazio il Napoli l'Atalanta nelle ultime otto parite il Milan ha perso il secondo tempo del derby di febbraio e il resto ha sempre vinto pareggiato quindi che il Milan abbia ormai una sua andatura importante un suo percorso una sua credibilità una sua strada tracciata questo mi sembra mi sembra evidente mi sembra nei fatti ma condannare il Milan a vincerle tutte beh ragazzi io capisco che la critica si prepara anche il terreno per analisi successive per per pungolare per stimolare mancherebbe tutto giusto tutto legittimo tutto sacrosanto però condannare il Milan a vincerle tutte no no poi Gigio Donnarumma il problema di Gigio Donnarumma non è che non abbiamo il sostituto di Gigio Donnarumma non ce l'avremo mai il sostituto di Gigio Donnarumma perché se una difesa avete visto Ibra l'errore del 3-3 è probabile che Ibra non fosse non fosse tranquillo ma non perché c'era Tataruzano non sarebbe stato tranquillo se ci fosse chiunque altro il problema è che non c'era Gigio perché qualsiasi squadra abituata a sentirsi urlare da Gigio a vedere Gigio ad avere Gigio qualsiasi altro portiere sei lì sei lì sulle palle inattive mentre difendi un po' così questo è il tema il tema è che quando un portiere è così forte non esiste è vero c'era Pepe Reina Pepe Reina non faceva sentire la mancanza anche se a Pepe Reina è capitato anche lui di fare degli errori Tataruzano ha sbagliato il Milan-Roma Pepe Reina aveva sbagliato in Genoa-Milan ve lo ricordate? poi si era riscattato parando il rigore per carità però aveva sbagliato sul tiro di scena aveva sbagliato e il Genoa era dato in vantaggio e il Milan stava scivolando clamorosamente in classifica prima della rimonta con i gol di Teo Hernandez e che sì può capitare certo Pepe Reina è un grande portiere lo sta dimostrando ancora adesso nella Lazio però ripeto e insisto il problema non è il sostituto di Gigio perché è un problema che non esiste che non c'è che non può esserci qualsiasi altro portiere tu hai alle spalle che gioca al posto di Gigio la difesa l'assetto sulle palle inattive rimane un po' sul chi va là ma non per disistima o sfiducia perché non c'è Gigio questo è il punto indipendentemente da chi lo sostituisce e bene ha fatto oggi in ogni caso Stefano Pioli a dare completa e totale fiducia a Tattarusano io ricordo come vincemmo la Champions League nel 2007 uscimmo con le ossa rotte per qualche errore di Dida da Milan-Bayern 2-2 la prima cosa che fece il Milan fu rinnovare e consolidare la fiducia a Dida Dida poi ad Atene alzò la Champions League poche partite dopo con il Milan-Bayern 2-2 quindi non alzeremo la Champions League quest'anno però rispetto a un portiere è così che si fa nessuna discussione fiducia totale naturalmente certo la parte dei tifosi sperando che rendimenti migliori ma da parte dell'allenatore della società non c'era altra cosa che era possibile fare in questo momento ciao a tutti grazie